Ad Erice un percorso attraverso le mie installazioni per raccontare le storie e la tradizione siciliana. Attraverso i vicoli di Erice è possibile scrutare le opere accese, un messaggio di speranza, di luce, che in questo momento aiuta anche psicologicamente e invoglia chi vuole andare in giro e scoprire un posto fantastico come Erice. La fondazione Erice Art, che mi onoro di presiedere da poco tempo, non poteva sopportare di lasciare Erice al buio in questo periodo natalizio. E allora abbiamo chiamato Domenico Pellegrino, grande artista siciliano, che ha illustrato le strade della città con sue opere luminose, magnifiche, gioiose, allegre e che verranno accompagnate dalla musica stupenda di un altro siciliano, Franco Battiato. Quindi un museo a cielo aperto, in piena sicurezza, che ci accompagnerà per tutte le feste natalizie. È un percorso dedicato alla luce, in un momento di buio, in momenti cupi che sta vivendo la Sicilia, non solo la Sicilia, il nostro paese, a causa dell'emergenza sanitaria. Però la luce è un messaggio di speranza ed è un messaggio augurale in vista del Natale e anche in vista del nuovo anno, il 2021, che deve essere un anno luminoso lasciandoci alle spalle le ombre e il buio di questo 2020. È frutto della collaborazione con la Fondazione Rice Art, il nuovo sovrintendente, il professore Giordano Guerri, che ci onoriamo di avere tra noi, e anche il dottore Lorenzo Zichichi, quindi la Fondazione Ettore Majorana. Quindi frutto di questa fruttuosa e proficua collaborazione. E quindi è nata questa idea di fare qualcosa, seppur con sobrietà, ma dare comunque segnali di speranza. E la presenza di queste opere artistiche, della stessa Domenico Pellegrino, un artista siciliano, che gratuitamente, questo è giusto che lo diciamo, lo sottolineiamo, e vuole valorizzare attraverso questo percorso all'aperto, attraverso queste sue magnifiche opere appunto di luce, quindi anche qui un simbolo di speranza e di fiducia.